ciao ragazzi oggi è martedì e c'è san ranieri a pisa c'è la luminaria e noi andiamo io e mia vaffi e mia moglie sarà una bella serata anche se il tempo si sta abbastando ci sarà un sacco di gente sarà un caos trovare parcheggio però ne vale sempre la pena c'è una postale davvero particolare e ve la farò anche vedere buona serata ci vediamo dopo ciao 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 ciao